Una soluzione, alcuni annullamenti su singoli capi di imputazione, aggravanti per il resto, i giudici di Cassazione hanno confermato le condanne già disposte per i coinvolti nell'inchiesta antimafia extra fines. E' stato emesso il dispositivo, l'indagine fu concentrata quasi esclusivamente sui rapporti intessuti dal boss 63enne Salvatore Rinsivillo, attualmente detenuto in regime di carcere duro. Secondo le accuse mosse dai PM della Didiani Sena, che operarono insieme a quelli romani, Rinsivillo sarebbe riuscito a costruire una rete di rapporti economici ma anche di affari illeciti. Si sarebbe emosso soprattutto a Roma, facendo spesso spola proprio congela. La Procura Generale ha concluso per la conferma di tutte le condanne. I magistrati di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato alla difesa di Giuseppe Flavio Gallo, annullando la condanna senza rinvio e assolvendolo con la formula per non aver commesso il fatto. Nei precedenti gradi di giudizio era stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, difeso dai legali Giovanni Lomonaco e Rocco Guarnaccio. Per la sua posizione il ricorso è stato accolto, annullamenti anche per l'ossessore Rinsivillo, difeso dal legale Roberto Afeltra, ma solo rispetto ad un unico capo di imputazione, mentre per il resto la condanna è stata confermata in appello. L'entità della pena era a vent'anni di detenzione, annullamento su un attenuante per Gaetano Massimo Gallo, difeso dagli avvocati Giovanni Lomonaco e Antonino Reina. Per il resto ce la conferma. In appello la condanna fu ad 11 anni di detenzione. Per il solo trattamento sanzionatorio l'annullamento è stato disposto nei confronti di Dino Aldopione, con i legali Giacomo Ventura e Giovanni Lomonaco. Nel precedente grado di giudizio la pena è stata di 12 anni e 4 mesi di reclusione, unificati rispetto ad un altro verdetto emesso nei suoi confronti. Un annullamento per l'ex carabiniere Marco Lazzari rispetto ad un capo di imputazione all'aggravante di aver agevolato il clan di mafia. In appello la pena era stata indicata in 9 anni e 8 mesi di detenzione. L'annullamento con l'invio sulla gravante mafiosa è stato deciso invece per un altro imputato, Rolando Parigini, difeso dal legale Cristina Alfieri. In appello la pena fu di 7 anni e 8 mesi di reclusione. La decisione dei magistrati romani, ad eccezione dell'assoluzione di Gallo, tocca solo singoli aspetti delle condanne imposte in appello agli imputati. Sono state invece confermate in toto le decisioni emesse dalla corte nissera nei confronti dell'avvocato Gian Domenico D'Ambra, 5 anni e 4 mesi di reclusione, Filippo Giannino, 6 anni e 8 mesi, Vano Martorana, 8 anni, Rosario Pione, 5 anni e 8 mesi di reclusione, Alessandro Romano, 5 anni e 8 mesi e dell'altro ex carabiniere Cristiano Petrone, a 5 anni. Le difese di tutti i coinvolti hanno sostenuto l'accoglimento pieno dei ricorsi. In appello la richiesta di confermare le condanne era stata avanzata dal legale di un imprenditore locale, parte civile perché sottoposto a richieste estorsive. L'avvocato Vittorio Giardino ribadì le proprie conclusioni. In primo grado per l'imprenditore c'era stato il riconoscimento di una provvisionale. Gli imputati giudicati in Cassazione avevano tutti optato per il rito abbreviato.